Ma perché ci metti tutto questo tempo a mangiare una mozzarella? Questa è una mozzarella Valle Lata Galvani. Non so se mi spiego, non capisco. È fatto con il latte fresco e i fermenti lattici. E allora? È buona, tiene più gusto. Sì, ma perché mangi così lentamente? Perché se no, fermesce subito. Valle Lata Galvani, un gusto senza fine.